Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui con un nuovo video. Oggi, come vedete, non sono da solo, ma sono qui per presentarvi una lega che mi ha fatto davvero piacere quando sono stato invitato e per fare questo video ho portato con me l'ideatore di questa lega. Vi presento Daniel, come potete vedere, che è sullo sfondo con me, con un paesaggio un po' innevato. Daniel, prego, ti puoi presentare con i ragazzi? Io sono Daniel e ho anche un canale di YouTube, praticamente sto cercando di portare la mia esperienza un po' a tutti, ho vari progetti, è già la mia seconda lega, una l'ho già fatta, ho dato i premi, è andato tutto bene, e adesso sto cercando di farne una un po' più grande, vediamo se ci saranno più persone che ci partecipano. Le regole le sai benissimo anche tu, che ne abbiamo parlato prima, puoi spiegarle tu se vuoi. Spiego le regole, poi se c'è qualcosa Daniel ovviamente interviene in tutto. Come vedete vi ho aperto sullo sfondo la lega, si chiama Buona Fortuna a Tutti, ma troverete il link qui sotto in descrizione, quindi mi raccomando a fine video guardate in descrizione e troverete il link della lega. In più ho aperto un altro pannello per farvi vedere i premi succulenti, lasciamo questi sullo sfondo e ve li vado a spiegare al volo. Come vedete i premi si dividono, dalle super rare in giù per tutte le categorie, quindi super rare, rare, limite ed addirittura delle custom. Come vedete i premi adesso sono nove, ma in realtà saranno nove barra dieci. Perché? Vi spiego subito il regolamento. Sicuramente ci saranno tre premi rari, tre premi limited e tre premi custom. Come vedete i premi rari adesso sono due, perché manca lasagna, che però sarà uno dei premi. Come sarà strutturato il torneo? Il torneo riguarda il cambiato di Serie A, quindi partirà da questa giornata di Serie A, che dovrebbe partire, mi sembra, per la prima partita è venerdì, fino alla fine del campionato di Serie A. I primi in classifica riceveranno questi premi. Il primo vincerà lasagna, il secondo vincerà la seconda calza rara, che potete vedere, e il terzo la terza calza rara. Così via poi con le tre limited e le tre custom. Quindi per la bellezza i nove premi, per i primi nove classificati. Perché ho detto che saranno nove barra dieci? Perché all'arrivo sul canale di Daniel, quindi mi raccomando, per partecipare a questa lega vi dovete iscrivere sul canale di Daniel, che troverete anch'esso qui sotto in descrizione. All'arrivo di mille iscritti sul canale di Daniel e partecipanti al torneo, i premi slitteranno tutti, quindi lasagna non verrà dato più al primo, ma al secondo classificato, perché il primo vincerà addirittura una carta super rara. Carta super rara di Patrick Ostergi, che com'è, se andiamo a vedere questa carta, ragazzi, è davvero un premio ottimo, perché vi ricordo che il torneo basta l'iscrizione, quindi è totalmente gratuito, è una carta super rara di Ostergi, andiamo a vedere qua, perché non ce ne sono in vendita, è stata venduta a dei prezzi comunque davvero alti. Si parla dei 112 euro fino ai 734 che proprio Daniel ha comprato, quindi vi sta mettendo un premio che lui stesso ha pagato 0,221 ethereum. Quindi davvero, davvero, un'occasione partecipare a questa lega che ricordo è totalmente gratuita. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Daniel che trovate qui sotto in descrizione e partecipate alla lega che trovate anch'essa qui sotto in descrizione. Dopodiché si giocherà con le carte della Serie A, quindi potete partecipare tutti quanti gratuitamente e che vinca il migliore. Daniel, di tu se ho dimenticato qualcosa, se vuoi aggiungere qualcos'altro per presentare la problematica. La mia rincanza la lasagna non c'è perché per sbaglio l'ho venduto, lo sto invecchiando, e sì, lo ricomprerò e ci sarà la lasagna, magari cercherò di comprarlo con un bonus un po' migliore di quella che era come premio, messa come premio. Sì, c'ho anch'io il video sul mio canale, se andate a darci un'occhiata c'è tutto, descritto praticamente, tutto il regolamento è tutto. È tutto gratis, Serie A principiante come hai detto tu, devi solo iscriverti al mio canale, prendere il link della Lega e parteciparci. Proprio come il titolo, auguro buona fortuna proprio a tutti ed è un onore averti anche a te, perché ho visto che anche tu ti sei iscritto. Sì, sì, alla mia parte, questo è un onore. Ti auguro proprio buona fortuna. Vediamo chi è il migliore. Grazie mille. Quindi ragazzi, non vi resta che seguire il link qui sotto in descrizione, i premi li riceverete non appena finirà il premio, spero che vincerà uno di voi. Per qualsiasi domanda o dubbi potete contattare me, come al solito, sui vari canali che sapete, oppure direttamente Daniel, perché trovate sul suo canale YouTube tutti i social di riferimento. Noi vi ringraziamo come sempre, vi auguriamo di nuovo buona fortuna e che vinca il migliore. Buona fortuna a tutti. Ciao, raga. Grazie a tutti.